Alloggi di edilizia residenziale pubblica pronti da anni, graduatoria già ufficiale e ad Angri non si provvede alla consegna delle chiavi. Ancora sul piede di guerra è il consigliere comunale di minoranza Alberto Milo che ha scritto anche un'accorata lettera al prefetto di Salerno chiedendo il suo intervento nella delicata vicenda. Da tempo gli alloggi sono pronti ma nel frattempo sono stati vandalizzati, dichiara Milo che invita ora l'amministrazione comunale a devolvere le indennità per ripristinare la situazione. Il bando fu pubblicato nell'anno 2014, con precisione il 26 marzo del 2014. Questa situazione ha dell'assurdo, credo che la misura è colma. Dopo sei lunghissimi anni, finalmente le procedure di espletamento del bando sono state completate. Solo in Italia può succedere questo, che ci vogliono sei anni per espletare un bando di assegnazione. Finalmente questa graduatoria definitiva è arrivata. È arrivata nel mese di luglio 2020. Ora c'è da fare l'ultimo passaggio, cioè quello di consegnare le chiavi nelle mani dei legittimi assegnatari. Oggi questi nuclei familiari sono dei nuclei aventi diritto. E vi posso garantire che queste famiglie vivono in condizioni di forte disagio abitativo. A differenza del sindaco, io ho fatto un giro tra questi nuclei familiari, credetemi, molti dei quali vivono veramente ad un livello bassissimo, al limite delle condizioni igienico-sanitarie. C'è addirittura una famiglia, e qui facciamo finta di nulla, di niente, che vive in una barracca in località Piazzale Lazio, all'interno della quale ci sono dei bambini minorenni e anche questa famiglia sono degli aventi diritto. Però purtroppo sembra che il sindaco, rispetto a queste situazioni, sia indifferente. Non è propenso, avvezzo, a risolvere e ad affrontare queste situazioni che poi vanno a colpire la fascia debole della nostra città. Ma ci sono intoppi burocratici oppure da domani potrebbero darlesse chiavi? Allora, da domani si potrebbero già dare le chiavi se la nostra cara amministrazione fosse stata previgente. Purtroppo quegli appartamenti sono lì fermi da sei anni, sono stati abbandonati. Ovviamente che cosa è successo? Che in questi sei anni sono stati oggetto di vandalizzazione. Oggi c'è la necessità di ripristinarli. E sembra che l'amministrazione, rispetto a questa cosa, faccia orecchia di mercante. C'è da spendere dei soldi. Rispondono ai legittimi assegnatari con la solita favoletta, e cioè che non ci sono soldi. Ma rispetto a queste esigenze, questa non è una risposta. Io direi, in modo provocatorio, di prendere i 36.938 euro che hanno impegnato fino al 31-12-2020 per pagarsi i loro stipendi. Visto che loro percepiscono uno stipendio senza fare niente, allora è giusto che prendiamo queste cifre e le destiniamo alla ristrutturazione e al ripristino di quegli appartamenti. Perché questa è gente che soffre e noi gli dobbiamo dare una risposta. Io ho scritto al prefetto, cioè qui la lettera che ho inviato attraverso la mia PEC istituzionale, a sua eccellenza il prefetto, rispetto a quale l'ho avvisato che nella mia città c'è in atto una grave violazione di uno dei diritti fondamentali, che ogni essere umano deve a tutti i costi vedersi soddisfatti, cioè il diritto all'abitazione. Se il prefetto, rispetto a questa mia nota, non ci sarà un seguito, mi rivolgerò al Presidente della Repubblica. Non mi fermo fino a quando queste famiglie non si vedranno soddisfatte nel loro diritto.